Potenziare sia l'ospedale di Scafati che quello di Pagani sarebbe questa la volontà dell'asla di Salerno. Per il Mauro Scarlato si pensa non solo di riorganizzare tutto ciò che di storico c'era, ma anche di completare il polo pneumologico. Novità in vista anche per l'Andrea Tortora, dove ad esempio la fase di completamento del polo oncologico prevede anche un'unità operativa dedicata interamente alla radioterapia oncologica. Il polo invece pneumologico viene completato nel suo iter diagnostico-terapeutico con due importantissime unità operative, con due momenti assistenziali ad oggi mancanti. Uno, la riabilitazione respiratoria e già in queste ore si sta lavorando per la riabilitazione respiratoria. Due, la chirurgia toracica che in attesa che venga risolto il vulnus strutturale creato ormai dieci anni fa, cioè la chiusura delle sale operatorie in quel di Scafati, a seguito di quegli eventi drammatici che accaddero nel 2011, di fatti partirà su un nocera inferiore per poi trovare la sua collocazione definitiva sull'ospedale di Scafati. Questo è il disegno essenzialmente su Pagani. Pagani deve anche lì completarsi un percorso diagnostico-terapeutico che riguarda non le malattie respiratorie ma le patologie oncologiche. La prima cosa, bisogna ridare dignità all'oncologia ed ematologia. Oggi non è che non ce l'abbiano, ma veramente stanno lavorando in grande emergenza. È volontà aziendale di separare l'oncologia e l'ematologia, dotando a ciascuno di servizi autonomi o addirittura interi piani dell'ala vecchia.